Scusate Sto spiegando un po' le regole dei giocati. Sto spiegando un po' le regole dei giocati. Il numero 10 è già scorso. Andiamo alla cempe o tutti? Eh ovvio, andiamo un po' alla cempe. Però ci mettiamo l'impegno, sennò ci arriviamo. Abbiamo il nuovo asso, l'abbiamo arrivato a Brasile, il numero 10. Russano! Russigno! Russigno! Ma ci vediamo dove c'è? Pazzarigno! Vediamo il nuovo porto. Maglie rossa stasera per il porto. Ecco avviciniamo il capitano Delia. Capitano Delia nel riscaldamento. Capitano, questa è la seconda, la prima è stata vinta contro l'Inter. Vogliamo fare il bis? Sì, penso proprio di sì. Penso che la seconda pure la vinciamo e penso che vinceremo pure le altre per arrivare in Champions. Tranquillamente. Siamo carichi per questa Champions allora. Penso che si può vedere l'entusiasmo dei ragazzi. Vengono sempre al completo. 10, 9, 10 di loro c'è anche sempre il supporto. Quindi abbiamo il terzino destro della squadra. Eccolo qui. Grande partita l'altra volta contro l'Inter. Eccoli tutti. Stasera in maglia rossa. Maglia di trasferta stasera. Eccoli qua, due uno per uno. Non lo so, non lo so. fanno quello che chiede intanto però hanno fatto la prima rete meno male la portiamo a casa questa partita? speriamo, come dobbiamo fare con i tre punti sarebbe più vicino alla Champions la qualificazione diretta è in Champions siamo un po' lontani perché i play-off sono quasi presi no, non li dobbiamo fare già direttamente in Champions laterale che dice invece? forza fortuna del porto forza morto il dirigente io sono un gaccettore infortunato tornerà per la Champions forse ce la facciamo, uno stiramento della partita contro contro l'Inter un momento accanto al Covid 1-1 dobbiamo fare qualcosa sulla rete? secondo me no però il risultato adesso ci sta penalizzando adesso dobbiamo di recuperare il secondo tempo meditavate di più? no, siamo giocando male aveva detto il mister anche se 1-0 vediamo un attimo le schemi del mister cosa va adesso? quando tu stai centrato? stai centrato? il culo si allarga a destra non son non riumimentare non ruzie 自